la seconda giornata che è dedicata alle operations. Mi raccomando di stare attenti al discorso dell'ambiente, a Bibi come sapete molto attenta alla sicurezza e quindi vi preghiamo di stare attenti a quello che sono il post ambiente circostante, rispettare le norme di sicurezza del caso e soprattutto se siete in ufficio rispettare le norme di sicurezza per quello che riguarda il distanziamento. Detto questo direi che possiamo passare il clou di questa giornata. Allora qui sono presenti nel fare la presentazione in questione Massimo Scano che è il nostro portfolio manager esattamente per quello che riguarda tutti i discorsi relativi all'alarm management, al cyber security, al discorso di soluzioni per lo stacco carichi eccetera. Loredana D'Alessio che è la nostra digital lead e business development nel campo del digitale. L'agenda prevede essenzialmente due parti, una prima parte che è dedicata al discorso alarm site safety management e process power management in cui verranno esaminati questi prodotti e verranno anche fatti degli approfondimenti. Dopodiché avremo un break in modo tale da permettervi intanto di prendere respiro ma anche magari di rispondere alle mail e quant'altro e poi passeremo assieme a Loredana al discorso dei remote service. In ultimo questo punto cedo ben volentieri la parola a Massimo Scano. Massimo a te. Buongiorno a tutti, benvenuti, sono Massimo Scano. Adesso quindi vedremo una serie di soluzioni a supporto del mantenimento di una buona produttività dell'impianto, quindi vedremo una presentazione di queste tre soluzioni, una relativamente alla gestione dei carichi elettrici di stabilimento, dell'impianto, un sistema per la gestione degli allarmi e per la gestione dei sistemi di sicurezza. Partiamo dalla gestione dei staccocarichi. Ad oggi in tutti gli impianti un problema principale è proprio avere una rete stabile, limitare più possibili gli shutdown dovuti a mancanze di energia nella rete, avere una rete molto più stabile e in più ci sono diversi sorgenti di energia. Ad oggi si sono inserite le rinnovabili spesso e volentieri anche in molti impianti tra il solare e l'eolico oltre a produzioni interne come turbine a gas o altro, quindi la cosa importante è riuscire a far sì che tutta la rete di impianto sia attiva e ci siano minimizzate le perdite di produzione. La soluzione di ABB per questo è la BB Ability Process Power Manager, è una soluzione integrata, integrata nella piattaforma 800XA e integra la connessione verso le protezioni elettriche, i motori e tutto ciò che riguarda anche la parte processo. In questa unica suite si riesce ad avere sia la gestione di tutta quella che è la rete elettrica e volendo anche quella parte processo, poi vedremo un po' diverse topologie e applicazioni. Per quanto riguarda il Process Power Manager come è composto? La piattaforma è basata su 800XA con una soluzione scalabile di controllore in funzione di quanto l'impianto è grande, quindi quanto diventa grande la logica di gestione dello stacco carichi, può essere gestito il collegamento verso le protezioni, quindi la parte elettrica in modi diversi in funzione di quanto è moderno l'impianto, quindi si può andare in modalità classica, quindi con della IO classico S800 o single channel select IO nuovo di ABB, oppure con i bus intelligenti della parte elettrica come l'EC6850, riducendo di molto quello che è il footprint di intercollessione dell'impianto e anche rendendo più semplice quella che è la parte di ingegneria, configurazione, aumentando diciamo anche il controllo degli asset elettrici. Al suo interno il Power Manager è composto da una parte di controllo vero e proprio di quello che sono tutti i breaker, la parte generazione interna e il controllo verso i trasformatori. Il cuore del Process Power Manager sono le funzionalità che trovate qua al centro, funzionalità automatiche di load shedding, load shedding prediction, la load reduction, il power control, la synchronization, restart, restart and reacceleration, asymmetry load e così. Inoltre, diciamo, il sistema in caso di load shedding e in caso di restart e reacceleration vi rende disponibili il report così da comprendere correttamente come è intervenuto lo shedding, quali sono state le cause. Qua vediamo diverse topologie di utilizzo del Process Power Manager, diciamo dal lato destro qua è la soluzione un attimino più compatta, quindi possiamo avere il semplice controllore con dentro tutte quelle che sono le logiche di stacco collegate direttamente alle protezioni e quindi a tutti i breaker in hardwire o in 61.850, dipende un po' sempre dalla tipologia, ma senza nessuna supervisione, la supervisione potrebbe anche essere terza e in collegamento modbus in qualche altro modo verso terze parti. Oppure la soluzione totalmente integrata nella piattaforma 8100XA e quindi avere la piattaforma 8100XA come punto di supervisione del Process Power Manager, quindi con la parte di faceplate e comandi di tutte le utenze elettriche, l'integrazione degli allarmi, con tutte le funzionalità di load shedding e sincronizzazione delle barre e quant'altro. Oppure la versione più integrata e forse la più usuale nell'avere sia la parte di CS che la parte di gestione del Power Manager integrata così da avere in un'unica situazione sia per la gestione degli allarmi che per la gestione dell'impianto sia la parte elettrica e quindi cosa succede sulla mia rete elettrica che ciò che succede sul problema e sul processo così da avere ben chiaro quali sono le interazioni. Quello succede quando interviene il Process Power Manager, qua vediamo un esempio di rete elettrica dove abbiamo appunto due arrivi linea con i trasformatori e delle generazioni interne, ovviamente nel momento in cui manca una generazione interna o meno potenza disponibile, il Process Power Manager in automatico va a aprire i carichi non necessari entro i 3 millisecondi, questo serve per evitare che appunto la rete elettrica collassi per il troppo carico e quindi il blackout totale di impianto permettendo ai carichi principali di rimanere attivi. L'operatore ha una sorta di cruscotto col quale ha la possibilità di scegliere e selezionare le priorità dei carichi e quindi scegliere quali sono i carichi da una scelta fino a 200 priorità, quindi in modo veramente granulare, in più l'operatore può scegliere tra scenari diversi in funzione del tipo di produzione che sta facendo, quindi avere queste 200 priorità suddivise in quattro scenari diversi. Ci sono altre visualizzazioni dove fanno vedere un attimino allo strato un po' più alto qual è la situazione delle mie sottorete in termini di consumi di kilowattore ed eventuali anomalie sugli interruttori o sulle utenze. Le feature principali alla fine del Process Power Manager è la totale integrazione, come dicevamo prima, in 800XA e quindi avere sia la parte processo che la parte elettrica, riuscire a gestire il power balancing e load shedding in modo totalmente automatico, riuscire a ricalcolare in modo automatico quella che è la distribuzione della rete e la composizione anche degli switch e delle bus bar al suo interno senza che l'operatore debba far nulla. Altra cosa importante è la flessibilità, il tool è costruito su una libreria base di più di 20 anni di esperienze da BB nella gestione degli stacchi carichi di impianto. Questa libreria è una libreria standard, quindi è molto semplice e flessibile fare modifiche, espandere la rete aggiungendo nuovi generatori, nuovi utilizzatori all'interno della rete, nuove bus bar e così via, quindi in modo molto flessibile può crescere l'impianto. In più c'è la possibilità di avere a corollario un tool di simulazione di training per verificare offline le funzionalità del sistema. Per quanto riguarda i benefit, ovviamente il landscape del sistema è veramente compresso se usiamo appunto la 6850, quindi riusciamo a integrare tutta la sottostazione in modo molto semplice e efficiente, riducendo quelle che sono anche i tempi di ingegneria, il ritorno di investimento su impianti, poi dipende sempre un po' dalle installazioni, è molto alto perché limitando quelli che sono gli shutdown di impianto dovuti alle mancanze di alcune arrivi linee o delle produzioni interne, ovviamente l'impianto tende a risparmiare sicuramente moltissimo a riguardo. Le tre cose principali, i tre differenziatori del sistema sono uno appunto la determinazione automatica di come deve essere il setup della rete in caso di perdita di generazioni interne o di arrivi linea, quindi in automatico il sistema si resetta e stacca i carichi come deve essere, come previsto dalla logica. La possibilità per l'operatore in qualsiasi momento di modificare quelle che sono le priorità in modo molto granulare è appunto la scalabilità del sistema in modo abbastanza semplice e veloce. Vediamo adesso qualche case study, qualche installazione fatta, allora qua c'è una prima installazione in ADNOC dove la richiesta del cliente era avere questo process bar manager per gestire le criticità di impianto nei periodi molto caldi per le turbine a gas, spesso avevano dei trip su queste turbine a gas, l'impianto vedete qua è anche molto grande, quindi più di 20 sottostazione 1900 protezioni, grazie al process power manager hanno diciamo ridotto di molto quelli che sono gli shutdown dell'impianto dovuti ai trip delle turbine a gas e sono rientrati dell'investimento in meno di un anno. Un'altra installazione per questo diciamo LNG train dove è stato a lato dei fatti fornito non solo il process power manager ma anche il process power simulator, in questo modo che è stato possibile testare tutta una serie di ottimizzazioni dei test relativi al load dei generatori in anticipo rispetto all'installazione riducendo quelli che sono i tempi di on site di installazione e di test e di partenza dell'impianto. Un'altra installazione, questa qua è un sistema combinato quindi sia parte DCS che parte diciamo elettrica e quindi process power manager gestito da due differenti PC e quindi questa è una gestione in cui ABB ha messo il proprio effort nel cercare di coordinare le attività di questi due PC e nel fornire un'unica soluzione combinata al cliente inclusiva sia della parte controllo di processo che della parte gestione elettrica. Adesso passiamo un attimo al discorso relativo agli allarmi, quindi la gestione degli allarmi. La gestione degli allarmi è un argomento molto importante su tutti gli impianti a partire specialmente sugli impianti brownfield più che greenfield, anche se sugli impianti greenfield bisogna partire col piede giusto fin dall'inizio sicuramente. L'allarme cosa deve fare? Deve sicuramente allertare l'operatore ma non solo allertarlo e anche guidarlo in cosa deve fare per evitare che quell'allarme si tramuti in un blocco, in un fermo impianto. Altra cosa molto importante è l'allarme che cos'è? È una delle ultime layer di protection e quindi è una delle layer di protection così come l'ESD, così come barriere reali in impianto quindi è molto importante. È molto importante quindi gestire quello che è chiamato l'allarme life cycle quindi tutta la gestione dalla razionalizzazione al monitoraggio dell'allarme all'ottimizzazione stessa degli allarmi. Quindi avere questa visione olistica della gestione degli allarmi. In questo il tool BVVT Allarme Insight supporta il cliente con tre suite al loro interno. Una prima suite che è il monitoraggio che dà una visione ben dettagliata e globale di quello che sono gli allarmi i flussi degli allarmi, la distribuzione degli allarmi secondo la normativa un tool di razionalizzazione così come chiede la normativa che è un cosiddetto master alarm database all'interno del quale vengono registrate tutte le decisioni prese con i processisti e con chi gestisce l'impianto per come devono essere le priorità d'allarme, le descrizioni degli allarmi e le guide agli operatori su cosa fare in caso d'allarme. E poi c'è la possibilità di avere un modulo di ottimizzazione che è principalmente ad oggi legato solo alla piattaforma 800XA che permette il trasferimento automatico dei dati verso il sistema 800XA dal master alarm database e permette di avere un difference report per andare a verificare cosa è cambiato all'interno di 800XA rispetto al master manual database. La piattaforma Alarm Insight può essere multisito quindi non è un sistema e dopo lo vedremo per un impianto ma può essere messa a cappello di più impianti poi c'è la versione cloud, è accessibile alla fine tutto quello che è, tutta la suite è accessibile dal computer di ufficio come stile web browser. Il concetto che sta dietro l'alarm management lo possiamo dividere in tre sezioni la prima ovviamente importante specialmente sugli impianti Brownfield è l'andare ad analizzare e a recuperare tutti quelli che sono i dati di impianto quindi tutti gli allarmi di impianto farli diciamo gestire poi dall'Alarm Insight per avere quelli che sono i KPI reports e le analisi per vedere in che situazione è il mio sistema di allarmi rispetto alla normativa e rispetto a quello che gli operatori possono gestire. quindi sia la distribuzione come dicevamo prima degli allarmi per priorità sia l'Alarm Bust, quali sono gli allarmi che escono più di frequente e qual è anche l'effort al quale l'operatore deve sottostare continuamente per gestire questi allarmi che certe volte diventa anche insostenibile. poi in la seconda fase andare a fissare appunto questi continui allarmi che continuano a comparire e in alcuni casi inserire, spesso non ci sono quasi da nessuna parte, anche dei test dell'operatore per supportarlo su cosa fare in caso di allarme. quindi abbiamo l'estrazione dei dati con il tool Alarm Insight con tutta quella che è la suite di analisi dei singoli allarmi, questi allarmi poi si va a verificare per esempio quali sono gli allarmi principali che compaiono di continuo, tutta la suite di allarmi presenti nell'impianto vengono importati in questo Alarm Database Razionalization Tool all'interno del quale si va a decidere in concomitanza appunto anche con la parte processo alcuni allarmi magari deve essere cambiata la priorità perché hanno un rischio diverso alcuni allarmi magari sono doppi e da qua, da questo Alarm Razionalization Tool alla fine nesce quello che è l'elenco degli allarmi che poi deve essere esportato e o nel momento in cui ho 800XA ho l'integrazione diretta oppure esportato in formato Excel su un sistema terzo e vado a inserire le modifiche che ho deciso in questa fase di ingegneria e appunto il terzo passaggio principalmente fatto con 800XA è appunto quello di andare a trasferire l'operatore tra ciò che c'è dentro 800XA e quello che ho deciso in fase di ingegneria così da avere sempre un tracking nel momento in cui qualcuno fa modifiche sul mio sistema o ciclicamente ogni sei mesi posso andare a verificare se quello che ho deciso è stato modificato all'interno del DCS e da lì andare a fare un balance a capire se devo riapportare la mia vecchia modifica o va bene la nuova modifica fatta all'interno del sistema quindi nella fase di Sustain and Improve c'è appunto la parte dell'avere un database unico nel quale consolido tutti gli allarmi di impianto avere poi i KPI reports e quindi capire ogni singola area di impianto anche qua poi dipende molto dal cliente finale non è un'attività che deve essere fatta ovviamente o avere un KPI reports globale di impianto sicuramente serve come visione ma diciamo bisogna sempre focalizzarsi su aree di impianto oppure su impianti che vengono gestiti da una baia operatore e quindi quali sono gli allarmi che gestisce l'operatore e da lì avere quella che è l'analisi di dettaglio l'analisi di dettaglio è dire l'operatore sta gestendo 200 allarmi all'ora sono troppi, la mia soglia per il mio operatore deve essere 10 allarmi all'ora e da lì vado a vedere quali sono gli allarmi li vado a sistemare, magari a modificare la logica, le priorità o quant'altro questo qua è il tool di razionalizzazione che guida quelle che sono le decisioni in fase di ingegneria da cui c'è sia la decisione iniziale in cui un po' come quando viene fatta l'AZOP in funzione di quelli che sono i rischi e le conseguenze di quell'allarme posso essere guidato poi in quanto tempo l'operatore deve rispondere altrimenti ho uno shutdown vero e proprio in funzione di queste cause sono guidato in modo standard secondo decisioni standard che fanno parte di quello che è l'FDS degli allarmi di impianto su come devono essere settati gli allarmi, se priorità 1 o priorità 2 dopodiché c'è tutta la parte descrittiva in modo univoco o un database unico digitale per gestire quella che è la razionalizzazione degli allarmi qua è un esempio nel momento in cui ho 800XA per esempio ma anche con Symfony Plus c'è la possibilità di avere quello che è un allar helper che dicevamo prima, quindi una guida all'operatore a quali sono le corrective action che deve mettere in atto per evitare eventuali shutdown poi il tool dell'ART permette di avere un allar change recorder quindi avere anche la conseguenza delle modifiche delle decisioni fatte sulle modifiche degli allarmi quindi di diverse priorità qua dicevo prima la possibilità di avere strutture differenti quindi con una geografia di non solo un sistema quindi avere più sistemi sotto 800XA e non e avere un'unica gestione degli allarmi di quel sito e quindi avere un overview un po' più generale poi si può fare il drill down su area di impianto sul singolo sistema allo stesso modo si può avere nel momento in cui il cliente ha sistemi distribuiti in location diverse allo stesso modo si possono avere delle stazioni locali con i loro database locali consolidati centralmente nell'headquarter per avere una visualizzazione, una situazione globale su tutti quelli che sono gli impianti connessi e con questo passiamo a una sessione di approfondimento perfetto, grazie Massimo vediamo qualche domanda un po' più aggiuntiva per capire un po' meglio il campo di utilizzo di queste soluzioni intanto volevo chiederti una cosa se effettivamente la soluzione del process power management è una soluzione che è adottabile soltanto per impianti con installato un DCS ABB oppure se è stensibile anche ad altre tipologie di impianto allora assolutamente no, non è necessario avere il DCS ABB come vediamo tra le varie soluzioni c'è la soluzione diciamo sia minimale con quantomeno il controllore è necessario avere diciamo il controllore C800M ABB perché all'interno ci sono tutte quelle librerie standard sviluppate dal nostro gruppo di ricerca e sviluppo collegato in 6850 alle protezioni poi sopra il controllore può inviare dati anche ad altre piattaforme ok ti ringrazio poi un'altra domanda, curiosità sempre per il PPM è necessario un fermo impianto visto che si tratta comunque di un sistema di un certo invasività diciamo così diciamo generalmente sì anche pur utilizzando la comunicazione 6850 bisogna diciamo prevedere un download della configurazione della comunicazione dei dati tra le protezioni e la C800M quindi è necessario diciamo un fermo di quelle che sono le protezioni almeno parziale o comunque scadenziato nel tempo fino ad arrivare alla soluzione alla soluzione completa ovviamente ancora di più nel momento in cui dobbiamo interconnettere diciamo hardware le protezioni ovviamente c'è bisogno di un piccolo fuoriservizio mentre per quanto riguarda la integrazione dell'altra porzione di di alarm management ovviamente no perché è un'interfaccia PC standard verso la suite alarm insight perfetto un'altra cosa è relativamente ai test di questo sistema come possono avvenire i test di un sistema di questo tipo senza essere connessi fisicamente alle protezioni e interruttori di impianto diciamo che ABB ha a disposizione un tool che è chiamato ABB Process Power Simulator questo Process Power Simulator che ha la possibilità al suo interno di emulare totalmente tutta la rete elettrica quindi posso ricostruire in modalità digitale tutta la rete elettrica con gli interruttori i vari feeder di arrivo e tutti gli utilizzatori sotto importare tutta quella che è la configurazione del mio stacco carichi e andare a simulare le perdite di generazione gli stacchi le under frequencies posso testare diciamo globalmente tutta la logica senza aver collegato nessun nessun diciamo apparato fisico di impianto diciamo va bene perfetto qualche domanda invece sull'alarm management anche qui è un prodotto che si applica solo a sistemi ABB o può essere esteso anche ad altri sistemi di terze parti no assolutamente diciamo utilizza interfaccia PC AES standard quindi può essere interfacciato con con qualsiasi sistema ABB e non l'unica porzione di integrazione extra utilizzando l'ABB 800XA è la parte di optimizzo e quindi il trasferimento automatico della configurazione dall'ART al sistema 800XA per il resto diciamo tutto ciò che è la suite di analisi e di KPI e di generazione di KPI viene fatta in automatico con qualsiasi sottosistema acquisisce via PCI e genera questo unico file database SQL dal quale poi fa tutti i calcoli delle analisi necessarie senti un'ultima domanda relativa alla razionalizzazione degli allarmi che di solito è un progetto molto delicato e critico a tuo giudizio se uno deve iniziare questo tipo di progetto chi è necessario coinvolgere come si svolge un po' questo tipo di progetto allora come si accennavo sicuramente non è un progetto molto lungo implica un investimento enorme da parte di tutti sicuramente e quindi è bene diciamo partire per piccole aree di impianto e quindi iniziare a focalizzarsi su quelle che sono le aree di impianto più critiche o come si diceva prima le postazioni operatori quindi le aree di impianto che gestisce una singola postazione operatore e da lì coinvolgendo sia la parte processo del cliente sia i nostri esperti di processo perché abbiamo un team di esperti di processo che seguono sia la parte controlli avanzati e hanno abilità e esperienza nel gestire anche la razionalizzazione insieme possiamo fare questo cammino di inizio per effettuare la razionalizzazione di impianto fatto continuamente a step diciamo noi come supporto iniziale per vedere un attimino come effettuare l'attività sicuramente un processista di impianto che conosce l'impianto reale e i problemi dell'impianto ok perfetto vi faccio un'ultima domanda sul 61 850 nel caso che uno debba aggiungere un device di questo tipo come si deve comportare con il resto della rete cioè bisogna riconfigurare l'intera rete no va sicuramente diciamo rigenerato quello che è l'SCD file che è il file di configurazione della rete e va diciamo sicuramente ricaricato alla fine su tutte le protezioni ma sulle protezioni diciamo esistenti è una cosa che si può fare anche con l'impianto di servizio perché non vengono effettuate modifiche non ci sono delle nuove interazioni con le protezioni esistenti l'unica cosa è lo scaricamento dei dati sulla nuova protezione aggiuntiva che deve essere molto probabilmente messa fuori servizio ma non ci sono diciamo problemi interazioni con il resto della netto 61 850 va bene ti ringrazio ti lascio la seconda parte della tua presentazione che immagino che sia relativa al Safet Insight grazie grazie a te Maurizio dunque in molti impianti oil and gas chimici e farmaceutici è presente un sistema SD che è una delle altre layer of protection come dicevamo prima una layer sono gli allarmici sulle barriere fisiche e poi c'è il sistema di sicurezza ovviamente avere un sistema di sicurezza non diciamo ben controllato spesso e volentieri può portare a dei danni come è successo in questo caso in questo parco serbatoi molto ingenti nei quali hanno trovato diverse deficiencies su quella che è la gestione di tutto il life cycle del sistema di sicurezza secondo la normativa in termini documentali e anche la difficoltà del cliente finale nel monitorare in modo dettagliato cosa succede al sistema di sicurezza in un incidente in UK diciamo gli investigatori a valle dell'incidente le tre domande principali che sono andate a fare al cliente era so che cosa è successo e che cosa è andato male qual è stato diciamo il problema che ha scatenato il tutto ho visione di dettaglio di quali sono le barriere di protezione che avevo attiva su quel sistema e ho tutte le informazioni per essere sicuri che diciamo ora il sistema funziona correttamente a queste tre domande generalmente si risponde in questo ciclo di attività che vengono fatte nella definizione di un sistema di sicurezza quindi partendo da risk assessment con il layer of protection design al design delle SIF fino ad arrivare proprio a quella che è il design di quella che è la logica del sistema di sicurezza l'implementazione poi c'è tutta la parte di operation e maintenance a supporto di questo e nel rendere tutto un po' più digitale che non oggi e spesso e volentieri diciamo è gestito con tool totalmente diversi l'ABB ha approcciato questa questa problematica con questo prodotto che è chiamato ABB Ability Safety Insight che copre sia tutta la fase di ingegneria alla nostra destra quindi dal risk assessment al design digitalizzandolo e portando in modo automatico anche tutta una serie di dati al supporto dell'implementazione della logica e poi quello che è l'operation and maintenance mettendo a fattor comune quindi la parte dei dati IT quindi la parte degli engineer in data quindi tutta la parte risk assessment con quelli che sono tutti i dati che arrivano dal sistema OT che controlla poi l'impianto e alcuni dati IT per quanto riguarda tutto quello che è la gestione della manutenzione della strumentazione da campo e delle valvole di contatto appunto nel vederlo diciamo le due aree di applicazione abbiamo l'applicazione sulla parte di ingegneria dove digitalizziamo l'azop quindi in un tool unico avro tutto dopo aver deciso quali sono gli eventi top vado a decidere quali sono le mie layer of protection decise e create le mie layer of protection da quanti e quali strumenti sono costituite ho un tool di supporto per quello che è il design della SIF quindi riuscire a capire in funzione dei proof test interval che voglio sulla mia SIF del grado di SIF che devo raggiungere deciso dall'azop ho un tool che mi guida a scegliere gli strumenti adeguati a scegliere la tecnica adeguata per raggiungere il SIF che mi serve in tecnica 1 su 2 2 su 3 o quello che sia una volta generata questa parte di ingegneria ho la possibilità molti di questi dati di trasferirli in quella che è la suite operation and maintenance e implementativa vera e propria della logica all'interno del controllore qua si vedono diciamo le rappresentazioni principali della suite dove appunto questa qua un overview di quella che è il design della layer of protection dove ho il mio evento top e qua di fianco rappresentate tutte quelle che sono le mie layer of protection con tutti i controlli intermedi da capire se c'è la parte di maintenance se c'è un maintenance override o quant'altro sotto c'è tutto il tool di supporto al design della tecnica della SIF quindi sei in 1 su 2 in 2 su 3 e andare a verificare se riesco a raggiungere il SIL adeguato in funzione di come costruisco la mia safety instrumented function una volta disegnata la SIF nel caso in cui uso ABB 800XI e quindi il controllore HI di ABB ho la possibilità di trasferire quello che è il causa effetti e generare in automatico la logica nel controllore se no ho il documento della causa effetti che trasferisco e utilizzo per configurare qualsiasi altro controllore in questo modo in automatico mi si crea quella che è ho la possibilità di avere questa operational risk dashboard che è una visualizzazione globale di impianto dove vedo la situazione dei miei eventi top se sono opportunamente coperti oppure no questa è una dashboard dinamica quindi nel momento in cui ho un bypass attivo o una manutenzione mancata in automatico il mio evento top che dovrebbe essere posizionato in zona verde si sposta in zona rossa in questo modo ho un overview diretta qua alcuni use case veloci che vi racconto per spiegare quali sono i benefici di avere diciamo di introdurre questo tipo di soluzione in caso di shutdown la cosa principale le tre domande che vengono fatte a un safety engine o comunque a un maintenance engine è dire cosa è successo il sistema safety ha funzionato correttamente possiamo ripartire in produzione farlo sul sistema normale ricercando negli allarmi muovendo sulle pagine grafiche non è così semplice banale e veloce safety insight con una suite che ha al suo interno che è chiamato automatic shutdown report vi permette di avere un fall tree molto di dettaglio in cui vedo esattamente chi è stato l'iniziatore del mio evento top oltre quello ho l'elenco di tutte le valvole che si dovevano muovere e se qualche valvola non si è mossa correttamente perché ci ha messo più tempo di quello che era previsto dove aprire o chiudere entro in 30 secondi ce ne ha messi 50 a questo punto ho l'anomalia ben chiara e quindi so che non posso partire in produzione perché ho quella valvola prima da manutenere e da mettere a posto e questo lo faccio direttamente con un click entrato dentro in questa dashboard senza dover navigare su mille diciamo pagine grafiche o sortare negli allarmi e perdere molto tempo altro diciamo use case è l'ottimizzazione della maintenance quando io devo fare una maintenance sul sistema di SD le cose principali principalmente devo fare quelli che sono i proof test a tutte quelle che sono gli organi finali quindi alle valvole in campo che hanno il costruttore ci da un proof test intervall che può essere un anno due anni in funzione del livello di SIL che dobbiamo raggiungere l'avere centinaia di valvole in un impianto vuol dire che nel momento in cui fermo devo testarle tutte Safe Insight che cosa permette di monitorare che cosa succede a queste valvole durante il normale funzionamento dell'impianto e registrare qual è stato l'ultimo momento in cui queste valvole sono state mosse utilizzate per processo per un blocco spostando in automatico la data di proof test in avanti quindi durante questa manutenzione io posso ridurre il tempo di fermata per fare queste attività di manutentive e farle solo alle valvole che veramente non si sono mosse per tutto quel periodo e rinviare più avanti l'altro gruppo di valvole riducendo di molto diciamo quella che è i tempi di ferma e i tempi di manutenzione altra cosa importante vedevamo prima l'Operational Risk Dashboard diciamo spesso e volentieri chi è manager e chi gestisce diciamo la sicurezza di impianto riceve KPI diciamo settimanalmente via mail con determinati indicatori che non sono sempre diciamo aderenti con quella che è la situazione di impianto avendo accesso a quella che è l'Operational Risk Dashboard di Safety Insight in un colpo solo il cliente il manager può vedere come è protetto il suo impianto e se realmente è in condizione di sicurezza e di tranquillità e avere un report non più settimanale mensile o che sia ma giornaliero in qualsiasi minuto in qualsiasi momento succeda qualcosa sull'impianto può avere una visione globale essere tranquillo bene siamo in produzione sicura tutte le mie error protection sono attive correttamente manutenute e non ci sono bypass attivi perché su quella Rich Dashboard abbiamo questa visualizzazione in più altra cosa per chi è ingegnere per chi fa manutenzione il fatto di avere digitalizzato tutta la parte di ingegneria prima permette di avere diciamo della documentazione reale su quelle che sono le error protection e quindi nel momento in cui io so l'ingegnere deve andare a fare manutenzione su una particolare layer of protection di un evento top avendo la documentazione di ingegneria al suo interno può andare a vedere se quell'evento top ha altre layer of protection e quindi va facendo manutenzione a eliminare l'unica che funziona o l'unica che è collegata e quindi esponendosi a un rischio oppure no e quindi avere una visione diretta che normalmente direttamente sul sistema di controllo non si ha quindi riguardando quella che è la parte di engineering application del di safety insight abbiamo quindi la disponibilità dei moduli che dal supporto dell'azop secondo lo standard 61 508 511 il sistema utilizzabile sia per greenfield che per brownfield e diventa quello che è un registro globale di tutto quello che succede oltre ad avere al suo interno un database generale di tutte quelle che sono le possibili item di impianto nel senso di valvole e trasmettitori seal per avere e sapere quali sono i dati necessari per di avaliability e di disponibilità per poterli poi inserire in quella che è la SIF e scegliere il corretto il corretto strumento quindi grazie a questa parte di ingegneria sicuramente l'effort nel ricercare documentazione nel anche costruire tutta la SIF è molto ridotto e quindi è molto più veloce diciamo anche nella parte di ingegneria può essere anche usato anche dato direttamente all'EPC così da avere in fase di creazione di impianto nuovo da avere direttamente i dati digitalizzati fin dall'inizio le tre aree principali di supporto all'operational maintenance dicevamo l'operational risk dashboard quindi l'overview degli eventi top live come migra in funzione di manutenzione o bypass attivi il demand reporting che è il report di cosa succede nel momento in cui ho il blocco il bypass management è una visualizzazione dedicata a quelli che sono i bypass attivi in quel momento in impianto su tutte le mie SIF il SIF performance che è anche un requirement della nuova edition della normativa ed è vedere come performano diciamo i miei attuatori rispetto a quello che dà il costruttore possono performare meglio o peggio in funzione di come performano sul mio impianto posso diciamo rivedere alcuni calcoli delle SIF quindi questo serve sicuramente a lavorare maggiormente in sicurezza avere una view molto più dettagliata del mio sistema di sicurezza di quali sono le error protection ridurre i costi di manutenzione essere pronto a ritornare in produzione in caso di shutdown e di failure vediamo velocemente gli ultimi case study diciamo abbiamo fatto un'installazione con la suite completa su diciamo questo FPSO e quindi il cliente in questo caso ha avuto l'opportunità di avere la suite completa con l'operational risk dashboard demand report bypass management e la SIF performance i dati sono stati utilizzati in fase in fase di APC e trasferiti all'interno dell'applicazione direttamente la stessa soluzione è stata usata in questo caso non con un DCS con un sistema ISD ABB in questo impianto LNGAS offshore in Francia e Germania dove diciamo abbiamo acquisito tutti i dati dei sottosistemi via OPCAE in questo caso il sistema era IMA e il cliente ha voluto solo il demand reporting che è la visualizzazione di che cosa è successo sull'impianto questa è un'altra FPSO dove qua il sistema è stato anche collegato alla parte SAP quindi c'è anche la totale integrazione con quello che è il CMMS e andare a capire se ho fatto le manutenzioni adeguate alle valvole quando dovevo e quindi la protection è correttamente diciamo controllata e verificata e quindi posso andare avanti con il mio sistema in modo sicuro una domanda la la safety insight può girare soltanto su sistemi ABB in particolar modo solo su 800 XA oppure anche su altri sistemi di controllo e automazione allora no assolutamente l'interfaccia che utilizza è l'interfaccia standard OPCDAE e quindi diciamo tutto ciò che succede sul sottosistema di controllo qualunque esso sia tramite OPCDAE riusciamo ad acquisire quelli che sono tutti gli stati delle varie SIF dei bypass che sono all'interno del sistema ESD di terze parti in uno dei case stadi c'è appunto un esempio in cui abbiamo integrato addirittura IMA per esempio uno dei tanti sistemi ESD di mercato l'avere la soluzione totalmente integrata con ABB il plus è quello di avere la gestione automatica anche della configurazione automatica della logica all'interno dell'ESD utilizzando la fase di ingegneria iniziale partendo dalla fase di ingegneria iniziale grazie buongiorno a tutti quindi adesso con me vedremo quelle che sono le soluzioni di ABB per il supporto da remoto attraverso sistemi mobili o anche attraverso l'uso di dispositivi che possano utilizzare la realtà aumentata quindi passiamo nel vivo di questo argomento non perché ABB voglia necessariamente utilizzare questi dispositivi per motivi ignoti ma semplicemente per rispondere a quelle che sono le nuove esigenze del mercato infatti sappiamo e lo viviamo noi per primi in ABB che ci sono delle problematiche comuni in tutti quanti gli impianti fondamentalmente ci sono delle persone che hanno vissuto tutta quanta l'esperienza dell'automazione l'evoluzione dei vari sistemi di controllo ed automazione ma anche negli impianti molti dei vostri colleghi o voi in primis avete sicuramente un'esperienza su tutta una serie di impianti e su tutta una serie scusatemi di sistemi che si sono evoluti nel tempo però molte di queste persone con una lunghissima esperienza purtroppo o per fortuna loro devono andare in pensione quindi spesso chi non ha vissuto questa evoluzione non riesce a colmare quelle conoscenze semplicemente con conoscenze teoriche acquisite all'università quello che accade inoltre è che spesso e volentieri il numero anche delle persone che sono presenti negli impianti attualmente anche perché molti dei sistemi possono essere visualizzati e monitorati da remoto sono sicuramente il numero inferiore rispetto a quanto non succedesse in passato però questo non risponde al fatto che comunque negli impianti ci siano ancora dei sistemi di vent'anni fa le cui conoscenze ovviamente sono nelle mani di pochi come dicevamo prima oltretutto è necessario e si pone sempre più attenzione al che tutti gli operatori possano operare ed agire nella maniera sicuramente più sicura possibile ma anche quanto più affidabile possibile cercando di ridurre al minimo gli errori umani per poter evitare di avere degli impatti sull'ambiente con dei possibili errori che potrebbero essere compiuti ma anche ridurre al minimo i costi dell'operatività stessa e questo sia per un fatto di competitività e sia per un fatto proprio di tempistiche e come dicevamo poco fa di impatto sull'ambiente quindi le soluzioni che ABB propone per poter rispondere a tutte queste esigenze sono delle soluzioni che fondamentalmente si pongono degli obiettivi infatti quello che noi abbiamo potuto notare per esempio da studi condotti da centri di ricerca è che durante la prima visita in un impianto quando viene mandato magari un esperto per poter risolvere il problema sicuramente è uno specialista di quel particolare problema però in una certa percentuale di casi che non è neppure trascorabile non si riesce a fissare quel problema proprio perché non si ha a disposizione la conoscenza di tutti quanti gli altri sistemi che sono interconnessi al sistema che ha presentato un malfunzionamento o al caso per cui l'esperto comunque è stato chiamato in sito fondamentalmente quindi quello che accade è che abbiamo due necessità contrapposte quella di voler rispondere immediatamente e risolvere il problema che si è presentato ma nello stesso tempo il doversi riferire a degli esperti che in quel momento non possono essere intervenuti per tutta una serie di ragioni oppure che non sono stati chiamati proprio per un semplice motivo il problema individuato era ad una prima analisi differente rispetto a quello che poi si è rivelato realmente in essere quindi fondamentalmente spesso dovendo avere a che fare anche con più sistemi interconnessi tra di loro che sono la causa del problema un'altra situazione che si può verificare è quella per cui necessariamente debbano essere coinvolte più figure professionali con esperienze su più discipline differenti tra di loro o un altro caso ancora che può verificarsi è quello per cui normalmente si applica una determinata procedura senza ricordare esattamente tutti gli step di quella procedura o senza avere una conferma da parte di chi è nella control room che quanto fatto in sito sia corretto questo perché giustamente si vuole risolvere un problema nei tempi più brevi possibili perché l'esigenza è quella di evitare dei fermi spesso e volentieri accade anche che verificato se è un problema si debba in qualche maniera far sì che la persona da mandare in impianto sia uno specifico esperto ma l'esperto di quella materia ovviamente deve recarsi in un sito che può essere anche molto lontano e quindi è necessario pianificare dei viaggi quindi abbiamo due componenti da considerare il tempo a disposizione di questi esperti e anche ovviamente poi i costi relativi ai viaggi soprattutto se poi come si diceva inizialmente andando in impianto si verifica che non è quell'unica persona quell'unico esperto di quella materia che per cui la la cui presenza è richiesta in quel momento per quello specifico problema quindi questo che cosa vuol dire che fondamentalmente cresce sempre di più la necessità di avere più persone esperte di più sistemi che possano intervenire quando si verifica un problema e la risposta di ABB a tutte quante queste condizioni che possono accadere sono appunto le soluzioni che vi mostreremo oggi la prima soluzione è la ABB Ability Remote Insight è una soluzione che è un tool che permette di condividere informazioni tra la persona che opera in sito e degli esperti che si trovano anche in siti in sale di controllo remote non è detto che debbano essere tutti nello stesso posto vedremo che con una soluzione di questo genere possiamo connettere sino a quattro esperti che possono essere necessari per la risoluzione di un problema successivamente vi mostrerò nel dettaglio quali sono tutte quante le feature di questa soluzione poi abbiamo una soluzione più specifica nel caso in cui debbano essere svolte delle procedure siano esse standard semplici o anche complesse in un impianto e la soluzione è la soluzione ABB Ability Augmented Field Procedure infine una soluzione che non vedremo oggi ma che è molto intuitiva da comprendere è la ABB Ability Mobile Operations quindi la soluzione proposta è la possibilità di visualizzare su monitor di dispositivi mobili quanto viene visto dall'operatore sull'ECMI nella control room quindi si avrà l'opportunità così di monitorare degli allarmi o anche dei valori dei sistemi di controllo che si è deciso insieme a voi clienti di voler far monitorare dall'operatore in campo andando più nel dettaglio nella soluzione del Remote Insight for Service questa soluzione è una soluzione che fondamentalmente noi definiamo come un tool collaborativo vedremo come in effetti si ha l'opportunità di collegare con questo tool che è un'app che voi potete scaricare sia su un dispositivo mobile per ora un dispositivo Android perché abbiamo verificato che sia i tablet che i cellulari che tipicamente vengono utilizzati negli impianti girano su Android ma potete utilizzare anche utilizzando degli occhiali che permettano l'uso della realtà aumentata come in Real Tech quindi questo tool di fatto come app scaricabile dopo aver avuto ricevuto da ABB le credenziali a poterlo utilizzare è un tool che permette all'operatore che si trova nella control room all'esperto di vedere quello che la persona in impianto sta guardando sta vedendo quindi facciamo il caso che vi siano per esempio dei sistemi molto vetusti o sistemi che magari non hanno la possibilità di essere monitorati da una sala di controllo e per cui si verificano dei problemi in questo caso si ha l'opportunità utilizzando un'applicazione come questa di vedere esattamente quello che la persona in impianto sta vedendo e quindi poter dare dei suggerimenti su come deve operare altra cosa c'è anche la possibilità di scambiarsi delle annotazioni su quello che viene visto di connettersi con più esperti quindi nel caso in cui si debba operare su un'apparecchiatura di cui non si conosce molto o si può andare ad analizzare la documentazione che in quel caso viene resa disponibile oppure si può contattare in un gruppo di esperti l'esperto di quella specifica materia e avere così l'opportunità di intervenire in quel momento stesso fondamentalmente poi c'è un'altra opportunità che è quella di aprire il caso su quello specifico problema e di mantenere traccia di quel caso quindi della risoluzione del caso ma anche delle operazioni che sono state implementate prima di arrivare alla risoluzione mantenere uno storico è sempre importante perché nel caso in cui si dovesse verificare un problema simile sullo stesso sistema o su sistemi appunto simili si avrà così l'opportunità di intervenire anche qui riducendo al minimo i costi di intervento vi farò vedere quanto abbiamo realizzato con un collega che ha aperto un caso perché c'era un problema in impianto per il riempimento di un serbatoio fondamentalmente quindi l'operatore in campo non fa altro che aprire una chiamata e definire un caso dopodiché c'è un esperto che risponde per la risoluzione come vi dicevo potrebbero esserci anche altri tre esperti in aggiunta alla persona che è stata contattata in quel momento che è stata individuata in quel momento si può realizzare anche una chiamata quindi non soltanto uno scambio di informazioni scritte ma si può avere una chiamata che resta comunque una chiamata non registrata quindi viene registrato il caso viene registrata vengono registrate le azioni che vengono compiute non vengono registrati ovviamente gli scambi telefonici in cui magari si debbono dare semplicemente dei dettagli del caso ma non sono fondamentali per la risoluzione ecco in questo caso che vi stiamo mostrando fondamentalmente dalla sala di controllo l'esperto vede quello che sta mostrando la persona in impianto e siccome vuole dare delle indicazioni gli sta dicendo che non si può operare utilizzando la valvola 2 perché è bloccata soltanto che l'operatore precedente non aveva indicato con un cartellino che quella valvola avesse dei problemi quindi vengono dati come vedete dei suggerimenti con delle annotazioni alla persona in campo su come può operare e dove può operare perché sa dalla control room che non ci sono dei problemi fatto ciò ovviamente la persona in campo può finalmente operare e quindi dare conferma che tutto stia avvenendo nella maniera migliore come vedete qui c'è la persona in campo che attiva la procedura e riesce a riempire il serbatoio dopodiché per poter lasciare ovviamente una indicazione o alle persone dei turni successivi oppure a chi vorrà in un secondo momento far riferimento a quanto è stato fatto magari durante un turno perché è stato risolto questo problema viene lasciato agli atti uno screenshot di quanto fatto ed il caso viene chiuso come risolto quindi una soluzione di questo genere come vedete è una soluzione che fondamentalmente permette di tenere traccia di tutto qualcuno potrebbe ovviare e ovviamente commentare quanto una soluzione di questo genere sia una soluzione efficace rispetto all'uso di un semplice dispositivo mobile bene vi rispondo già una soluzione di questo genere permette primo la connessione con più esperti che fanno parte del gruppo degli esperti che si rendono disponibili in quel momento per una risoluzione di un problema in quel momento creato appunto dalla persona in impianto quindi immaginate di avere una persona che opera nel vostro impianto e un certo numero di esperti delle apparecchiature o endem che sono sparse tra gli o endem stessi piuttosto che l'esperto che è nella vostra control room con un sistema di questo genere voi potete connettervi con più esperti ed è il primo vantaggio l'altro vantaggio è sicuramente avere l'opportunità di annotare in real time quanto può essere suggerita come azione di risoluzione del caso oltre ovviamente a poter memorizzare tutto quanto è stato fatto e quindi in un secondo momento dove dovesse ripresentarsi lo stesso problema sul sistema avere uno storico di quanto fatto invece nel caso in cui si volesse procedere con soluzioni che servano per poter guidare le persone in impianto ad eseguire procedure ed evitare errori nell'esecuzione delle procedure stesse la soluzione che ABB propone è la soluzione di ABB Ability Augmented Field Procedure fondamentalmente quindi spesso molte procedure sono in cartaceo sono scritte e magari anche aggiornate continuamente in cartaceo lo scopo di questa applicazione è invece la digitalizzazione di queste procedure che quindi possono essere pian piano anche migliorate cambiate a seconda della procedura stessa che deve essere eseguita o a seconda della specificità della procedura relativamente all'impianto o all'apparato o comunque alla situazione che si presenta in più una soluzione di questo genere prende anche i dati attraverso PC dal sistema di controllo quindi fondamentalmente con una soluzione di questo genere l'operatore che va in impianto ha l'opportunità di poter seguire una procedura che ha a disposizione su un dispositivo mobile oppure su un dispositivo anche qui che può utilizzare la realtà aumentata in questo caso gli HoloLens e avere sicurezza di non commettere alcun errore nel caso in cui diciamo si sia indecisi se compiere un determinato step oppure no un'altra applicazione di questa soluzione è quella di poter ovviamente formare persone che non hanno mai eseguito determinate procedure prima che queste stesse procedure vengano eseguite in impianto guardiamo un po' i possibili casi semplici di uso che ci possono essere fondamentalmente ci sono molti operatori che fanno normalmente dei giri regolari che possono essere di lettura e scrittura ovviamente di dati su strumentazioni di valori di strumentazioni e devono riportare gli stessi dati ovviamente su un book successivamente questi dati verranno dati alla persona scusate gioco di parole verranno passati alle persone e agli operatori quindi dei turni successivi ovviamente se tutto è digitalizzato non si possono correre dei problemi non si può incorrere in problemi di scrittura e lettura ci possono essere poi anche dei casi in cui queste procedure siano le standard procedure che vengono eseguite di trasferimento materiali calibrazione di strumentazione in cui spesso sono coinvolti sia l'esperto che o anche l'operatore diciamo che conferma la lettura di certi dati o determinate procedure nella contro Roma e sia l'operatore in campo tali operazioni possono avvenire ovviamente con tempistiche differenti rispetto a quelle del turno di cui parlavamo prima quindi possono avvenire anche una volta al giorno possono avvenire durante l'arco di una settimana quello che accade è che spesso per mancanza di comunicazione per qualunque motivo potrebbero esserci delle procedure che vengono eseguite appunto dalla persona in impianto che però non sono state confermate dalla collega che si trova nella contro Roma l'altro caso possibile è quello di procedure che sono sì standard però sono più complesse come quelle che possono avvenire una volta l'anno o comunque raramente durante l'anno tipicamente per esempio procedure di shutdown e start up in cui ovviamente più persone sono coinvolte non soltanto una sola persona in campo e una sola persona nella control room che può abilitare le varie attività e comunque confermare quanto viene fatto dalla persona ma che quanto fatto dalla persona in impianto sia corretta quindi con una soluzione come questa fondamentalmente la persona in impianto ha l'opportunità su un dispositivo mobile oppure sull'HoloLens avendo libere in questo secondo caso le mani di visualizzare sia il protocollo quindi principalmente tutte quante le attività che debbono essere fatte come propedeutiche prima di poter svolgere delle operazioni sia avere un overview di tutte quelle che sono le attività che debbono essere svolte e questo overview ovviamente include tutte le attività che devono essere svolte dalla persona in impianto e tutte le attività che devono essere confermate o svolte dal collega che si trova nella control room ciascuna di queste attività è fatta da passi da step che prevedono dei trigger di conferma da parte dei due colleghi in questo caso che stanno collaborando nella pratica vediamo un po' che cosa accade nel caso in cui si debba portare a termine una procedura di svuotamento di un tank fondamentalmente quindi ci saranno tutta una serie di attività che debbono essere svolte quindi nella procedura appunto deve essere attivata una sequenza di recirculation per abbassare la temperatura del liquido nel tank bisogna far sì che vi sia l'accoppiamento e quindi lo svuotamento avvenga lungo il percorso corretto supponiamo che ci sia una cisterna a cui viene collegato praticamente il percorso corretto per lo svuotamento e che questo svuotamento non avvenga invece secondo un percorso errato in una cisterna supponiamoci sia appunto una cisterna secondaria che contenga un liquido che non è assolutamente mescolabile con quello che si trova all'interno del tank che vogliamo svuotare quindi fondamentalmente cosa accade adesso vi mostrerò un po' con un video di una demo che abbiamo realizzato fondamentalmente quindi quello che accade è che vengono individuate due figure che stanno operando quindi come dicevamo la figura che è in impianto il plant operator e il suo collega che si trova invece nella control room sulla vostra sinistra potete vedere quello che vede la persona in impianto e poi ovviamente sulla destra quello che è visualizzato dal collega nella control room fondamentalmente quello che accade è che vengono assegnati i ruoli alle due persone e viene quindi iniziata la procedura questo che cosa vuol dire che fondamentalmente la persona in impianto è autorizzata conoscendo lo scopo di quanto deve fare avendo a disposizione anche tutte le informazioni relative al piano di sicurezza ha ovviamente confermato di avere indossato tutti quanti i dpi che sono necessari per fare quell'operazione a quel punto ottenuta conferma di poter operare comincia appunto con l'operazione di recirculation quindi quello che potete vedere direttamente sullo schermo è che iniziata appunto questa procedura adesso quando verrà attivata vedrete che la temperatura praticamente del liquido all'interno del nostro osservatoio diminuisce a questo punto quello che però è fondamentale è che come si diceva prima a proposito di trigger entrambe le persone che stanno collaborando in impianto e nella control room di fatto confermino vicendevolmente quello che stanno vedendo ovvero che stanno vedendo esattamente gli stessi valori quindi come vedete anche da questa schermata fondamentalmente dovesse servire anche della documentazione si potrebbe facilmente fare riferimento alla stessa a questo punto eseguite tutte quante le operazioni di protocollo viene attivata la procedura di recirculation e si ha l'abbassamento della temperatura del liquido nel serbatoio a questo punto arrivati ad una temperatura inferiore di 50 gradi si avrà l'opportunità di confermare che l'attività è stata la procedura ovviamente è stata svolta da parte dell'operatore e successivamente c'è una conferma anche da parte dell'operatore nella contro Roma quindi la conferma permette di passare al successivo step ed il successivo step dopo aver indicato qual è il livello attuale di riempimento del tank è quello ovviamente di accoppiare in maniera corretta il percorso per lo svuotamento del tank stesso quindi immaginiamo ci sia una cisterna di strada a cui dobbiamo di fatto accoppiare il percorso corretto per lo svuotamento del tank stesso come potete notare vengono date tutte quante le conferme di accoppiamento sia leggendo magari dei QR code sia mandando delle foto che indichino che tutto stia avvenendo nella maniera corretta dopo aver fatto ciò ovviamente vengono comunque confermati tutta una serie di trigger come vedremo adesso da parte dell'operatore in modo tale che possa essere iniziata l'operazione di svuotamento vera e propria quindi dopo aver registrato vedremo adesso i valori corretti e aver verificato che tutto quanto sia avvenuto nella maniera migliore ciò che verrà fatto a conclusione di questa procedura che quindi è stata confermata avvenuta nella maniera migliore da ambo le parti e la sigla da parte sia del field operator della conclusione della procedura che dell'operatore nella control room quindi di fatto con un sistema di questo genere sicuramente l'errore umano non può esserci perché entrambe le figure professionali hanno seguito l'intera procedura come doveva essere e hanno confermato ciascuno sia i trigger che l'avvenuta finalizzazione della procedura quindi finita la procedura anche in questo caso come nella soluzione che abbiamo visto precedentemente viene mantenuto uno storico della procedura stessa questo vuol dire che nel caso in cui questa procedura si volesse riutilizzare questa procedura ovviamente perenne altre volte si può fare tranquillamente seguendo esattamente gli stessi step che abbiamo visto prima ecco quindi come vedete viene chiusa e viene mantenuto uno storico anche in questo caso questo è quanto viene fatto utilizzando un dispositivo mobile se invece si vuole utilizzare un dispositivo come l'HoloLens nel caso in cui si debba operare tenendo le mani libere oppure nel caso in cui come vedremo adesso si costruisce un modello e si vuole utilizzare una soluzione di questo genere per formare dei nuovi operatori su procedure standard prima che gli stessi vadano in impianto ad operare lo si può fare utilizzando sempre quanto avete visto prima però utilizzando dei modelli per esempio spero che in questo momento parta la procedura per esempio ciò che abbiamo visto prima è un dispositivo che permette di vedere sia la realtà e sia aggiungere il layer della realtà aumentata ovvero l'applicazione proiettata direttamente in questo caso su Ordnance cosa è stato fa in questo caso è stato costruito un modellino del tank ovviamente dei percorsi per lo svuotamento sia quello che porta allo svuotamento corretto ovvero poi accoppiando secondo il percorso giusto il nostro sistema ad una ad una cisterna su strada e sia inibere invece il percorso scorretto ovvero quanto il secondo percorso che prevederebbe invece lo svuotamento errato in una cisterna che ha un liquido non compatibile con quello contenuto all'interno del nostro osservatoio come vedete qui quindi questo è il modellino fondamentalmente è stata attivata la stessa procedura che abbiamo visto prima di recirculation e quindi c'è l'abbassamento della temperatura e l'accoppiamento corretto questo appunto è un modello l'accoppiamento corretto con gli stessi step e trigger che abbiamo visto prima con la cisterna di strada piuttosto che con questa cisterna ausiliaria che potete vedere in questo momento quindi fondamentalmente il duplice obiettivo in questo caso è sia aiutare con le augmented field procedure gli operatori in campo e sia formare i nuovi operatori laddove fosse necessario prima che gli stessi vadano ad operare in campo quindi con questo io ho concluso la parte della relativa alle soluzioni di ABB di supporto da remoto per il service sia